Sì, non è anche voglia di parlare della mia prestazione. Abbiamo fatto una buona gara, abbiamo avuto una ripresa veemente, una grande rimonta ragionata attraverso le idee, attraverso il gioco, quindi questo ci fa ben sperare per il futuro, soprattutto dopo magari qualche trasferta al Talenante. Oggi veniamo via con un punticino, ma potevano essere tre e questo ci deve fare riflettere, ci deve lasciare dentro questa rabbia positiva che dobbiamo mettere venerdì in campo. Cos'è successo sui due calci piazzati? Mi è successo che dobbiamo metterci un po' di attenzione a tutti perché da una palla inattiva in Serie B si fanno tantissimi gol e lo sapevamo e quindi dobbiamo lavorarci sopra. No, assolutamente, assolutamente. Chiunque gioca sa cosa deve fare e quindi dobbiamo metterci sotto e metterci più attenzione, partecipazione, presenza, sia fisica che mentale perché i due punti di oggi ci proiettavano una parte alta del campionato. Sì, eravate primi assieme al Palermo e al Frosinone, credo, anche se devono ancora scendere in campo sia l'Avellino che l'Empoli. Tutto sommato la classifica è ancora cortissima, quindi serve un successo venerdì e poi nella trasferta di Brescia dove ci riproverete. Sì, andiamo per passo alla volta, venerdì abbiamo una partita complicata ma in casa nostra vogliamo proseguire con il cammino positivo davanti ai nostri tifosi e mettere in campo quello che stiamo facendo vedere, ovvero delle belle cose. Claudia, ci sono domande?